C'è una grande voglia di tutta la squadra di fare bene, di andare lì a vincere questa partita per poter sperare ancora la qualificazione. Stiamo parlando sempre, anche quando vinciamo, perché non è sempre tutto bene, ma se sapevo cosa non va per la squadra sarebbero facili, dobbiamo risolvere i problemi sul campo perché all'interno della squadra siamo bene come compagni di squadra, come uomini. Abbiamo un bel gruppo, stiamo lavorando bene in allenamenti e dobbiamo cercare di fare quello che facciamo in allenamenti in partita. A proposito del tuo futuro, pensi di poter rinnovare il contratto o credi che questa possa essere la tua ultima stagione? Veramente non lo so. In quel momento ci sono altre cose da pensare. Io sono concentrato sul campo a fare bene, aiutare la squadra e uscire di questo periodo di difficoltà. E poi vedremo cosa succede. Grazie a tutti.